E' bastata una lettera del sindaco di Modigliana Giancarlo Dardi, diretta dal sindaco e presidente dell'Unione della Romagna Fentina Giovanni Malpezzi e i sindaci forlivesi per parlare di questioni come infrastrutture, scuolo e sanità, per far scoppiare la nuova polemica attorno al piccolo comune in provincia di Forlì. Che Modigliana guardi al territorio Manfredo per il futuro non è più un segreto, anche se un eventuale distacco da Forlì sarebbe un'operazione lunga, complessa e sotto certi aspetti impossibile. Ma non è nemmeno un segreto che la comunità del Tramazzo condivide con la realtà faentina molti aspetti della propria vita quotidiana sui quali impostare la gestione dell'amministrazione comunale, indipendentemente dalla possibilità o meno di vedere Modigliana un giorno all'interno del territorio della Romagna Fentina. Sono a conoscenza che l'Unione dei Comuni della Romagna Fentina sta definendo in questo periodo i contenuti del piano strategico of Ensa 2030 e all'interno di questi contenuti del piano strategico ci sono problematiche che riguardano anche il territorio della Val Tramazzo e quindi Modigliana e anche Tredossio. Mi riferisco in particolare al riasetto scolastico, quindi al percorso formativo che verrà definito nelle scuole superiori del comprensorio faentino. I ragazzi di Modigliana frequentano le scuole superiori a Faenza. L'altro tema è certamente legato alla struttura dei servizi sanitari che sono presenti all'interno dell'ospedale di Faenza. Si è inaugurato da poco il nuovo pronto soccorso. L'ospedale di Faenza è l'ospedale di primo intervento, più vicino per quanto riguarda i cittadini di Modigliana. Altro tema per nulla banale ma assolutamente importante per l'intera vallata del Tramazzo è l'accesso alla vallata che viene dal Pote Rosso. Il Pote Rosso è un'infrastruttura interamente di proprietà del Comune di Faenza e sul territorio faentino. Ma io per scendere o salire verso Modigliana devo attraversare il Pote Rosso. E c'è un problema di collegamento tra l'area collinare nostra e l'accesso all'autostrada. Quindi parlare e discutere con l'Unione dei Comuni della Romagna faentina di queste problematiche, se ne possono aggiungere anche altre che ci riguardano e ci coinvolgono, significa discutere assieme sulle sette, sulle visioni, su come affrontare i problemi. Prima in una fase in cui sia ancora possibile fare proposte e non solo dopo, ma dopo magari si può semplicemente lamentare. Ecco, questa lettera però è stata vista un po' come un nuovo passo in avanti nel lungo cammino verso quell'obiettivo che lei aveva fissato di provare ad entrare all'interno della Romagna faentina la comunione. Allora, il tema della unione dei Comuni è un tema assolutamente attuale per tutti i Comuni, sia per i Comuni delle città, sia per i piccoli Comuni. Qui stiamo parlando di come definire i servizi che gestiscono le problematiche quotidiane dei cittadini. Quindi, nell'affrontare la gestione amministrativa occorre partire dai bisogni delle comunità. Detto questo, non è che una decisione esci da un'unione, entri in un'altra, si fa con la volontà di un singolo amministratore, prima di tutto. E io non ho espresso ancora questa intenzione, ho detto semplicemente che abbiamo dei problemi che ci portano a dover discutere necessariamente con un territorio che è ai nostri piedi, immaginando che fa entra sia ai piedi delle colline modiglianese, e così lo è. Allora, io non posso evitare di andare a discutere con Faenza sulle scelte che si andranno a fare sul piano delle infrastrutture per collegarci all'autostrada, è palese. Se voglio ragionare di questo, non posso mettermi a discutere con Forlì, perché Forlì per noi è decentrata, ma siamo nella provincia di Forlì. La scelta di uscire dalla unione della Romagna forlivese non è di Modigliana, è del comune di Forlì, che con la decisione che ha annunciato, sta rinunciando al suo ruolo di comune capoluogo di provincia. Forlì ha deciso lei di uscire dall'unione dei comuni della Romagna forlivese, non i piccoli comuni, e ci ha lasciato nei problemi di ridefinire una scelta istituzionale, che non è una cosa banale, quindi non è per ridicca, ma è per affrontare le problematiche che io voglio discutere con Faenza. E discutere con Faenza non significa decidere di entrare in un'altra unione, significa semplicemente tenere conto del fatto che noi per quelle problematiche dobbiamo discutere con Faenza. Se voglio discutere, ripeto ad esempio, perché mi pare confacente pertinente, se voglio discutere di come faccio ad attraversare facilmente la città di Faenza per andare all'autostrada, non posso mettermi a discutere altri che con Faenza, perché altrimenti, a meno che qualcuno non mi dica, beh, senti, l'autostrada prendi la Forlì, poi magari può andare bene se devo andare in direzione di Ancona, ma se devo andare in direzione di Bologna, no, eh. Ma sono banalità, se vogliamo. Ma l'altro problema che noi abbiamo, la gestione del bacino imbrifero, quindi tutte le problematiche che riguardano questo territorio da Modigliana, guardano Faenza, il consorzio che noi facciamo riferimento, è il consorzio della Romagna occidentale che è il medesimo di Faenza. Se voglio discutere di trasporti scolastici e collegamenti sulla viabilità, devo andare a confrontarmi poi con i comuni che fanno campo alla provincia di Ravenda, perché io guardo quel territorio. Quindi non è che ho voglia di fare la secessione. Non è questo il problema. Ho semplicemente ritenuto doveroso in questo momento, mentre loro stanno discutendo del loro piano strategico territoriale, dobbiamo andare a sentire quali sono le scelte e magari anche chiedere, beh, interessatevi anche di questo territorio.